Il percorso è tutto in sabita, ma non mi preoccupano tanto le difficoltà quanto piuttosto gli atteggiamenti di chi non vuol farsi carico fino in fondo della responsabilità che i cittadini gli hanno affidato, riponendo in loro piena fiducia. Per questo motivo, per una Montesilvano più vivibile, trasparente e onesta, ho deciso di ritirare le mie dimissioni. Vi ruberò solo pochi minuti per mettervi a conoscenza delle mie decisioni. Francesco Maragno arriva puntuale come un orologio, ore 12, convocate le dichiarazioni del sindaco dimissionario di Montesilvano. 20 giorni di tempo per ritirarle, nel frattempo tante erano state le voci di corridoio, tra fratture interne e ramoscelli d'ulivo da parte dell'opposizione, ma dopo la dichiarazione finale, alla domanda come si comporterà con i tre consiglieri che hanno votato per l'opposizione risponde. Io questo problema non me lo pongo perché nel momento in cui c'è stata la candidatura hanno sposato un progetto, hanno sposato un programma, questo programma noi intendiamo portarlo avanti nell'esclusivo interesse della città. Freddo e Serafico non tradisce emozioni, se non quelle per le tante attestazioni di affetto ricevute dopo le dimissioni. La domanda più attesa è, si procederà ora ad un rimpasto di giunta? No, non sto parlando di rimpasto di giunta al momento, queste sono valutazioni che verranno fatte successivamente, questa giunta comunque deve essere implementata perché a fronte di sette posti in giunta ad oggi ne abbiamo coperti solamente cinque e oggettivamente gli assessori sono obberati di lavoro, quindi in prospettiva nelle prossime settimane valuteremo il da parte. E infine il delicato tema delle lobby, erano stati i cosiddetti poteri forti a fargli gettare la spugna, ma oggi dopo il ripensamento dichiara determinato. Le pressioni ci sono state, non l'ho negato, non sono una persona che si affretta ad esprimere i giudizi, però nel momento in cui avesse confermato le mie dimissioni l'avrei data vinta a queste persone. In realtà io voglio continuare a lottare, a lottare negli interessi della città e quindi voglio portare avanti un'azione amministrativa che sia scevra da qualunque tipo di condizionamento.